Buon pomeriggio a tutti, sono le 15.06, apriamo la seduta della Commissione di oggi, procedendo come sempre con l'appello e la richiesta di volermi comunicare chi necessita di giustifica. Baccari? Presente con giustifica, grazie. Angelini? Bartolelli? Presente. Ufunato? Marrocchini? Presente. De Iulis? Presente in presenza con giustifica, grazie. Sordini? Presente in presenza con giustifica, grazie. Baccari? Io ho già detto presente. Oddio, me lo so ritrovare, scusa Presidente. Non c'è problema. Procedo a una seconda chiamata per il consigliere Cucunato, non vedo connesso. consigliere Cucunato. Prego, Presidente, a lei la seduta, i presenti sono sei. Sì, grazie, stavo cercando di scaricare il verbale da approvare oggi. Prego? Non so se il consigliere De Iulis ce l'ha con noi o se ha sentito... No, 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 Presidente, era un ritorno dell'audio mio. Ah, ok. Allora, vi condivido il verbale da approvare oggi, così ne diamo lettura. Lo vedete? Mi rispondete? Lo vedete il verbale? Presidente, io lo vedo. Ah, perfetto, no, perché gli altri non mi rispondono. Allora, inizio e do lettura al verbale del 12 di settembre, alle ore 15. È stata convocata la Commissione Pari Opportunità in modalità videoconferenza tramite sistema in uso a Roma Capitale per discutere il seguente ordine del giorno. Approvazione verbale numero 1723, esame di eventuale espressione di parere relativo alla proposta di deliberazione di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Corbucci, Cicculli, Tempesta, Melito, Baglio e molti altri, non li leggo tutti. La città delle donne, stati generali delle donne, quale dichiarazione ed intenti per la diffusione di una cultura politica e delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità e promozione e diffusione di azioni positive, per dare la concretezza agli intenti espressi. RC 21.039.2023, riferimento CN 2023 10.92.55 del 28.08.2023, esame posta a varie eventuali. Alle ore 15.08 la seduta apre. Sono presenti la Presidente Vaccari, i consiglieri Angelini Cocunato Pasetti, la segretaria verbalizzante Emanuela Mondo. Adempimenti, la Presidente presiede la seduta e dopo aver constatato il numero legale alle ore 15.08 dichiara ufficialmente aperta la seduta odierna, regolarmente convocata per le ore 15. La Presidente informa i commissari che giovedì 21.09 è convocata alla seduta per includere i due nuovi membri della Commissione e procedere alle valutazioni di Presidente e dei Vicepresidenti. La Commissione procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale numero 17.23 del 18.07.2023. Si dispone quanto segue, verbale inviato per eventuali osservazioni ai consiglieri intervenuti, Bedoni, De Julis e Canale. La Commissione procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno, quello colletto prima, quindi inutile che lo rileggo tutto. La Presidente introduce l'argomento oggetto di disamina nella precedente seduta e considerata la presenza dell'onorevole Corbucci gli cede la parola per un'illustrazione della proposta in argomento. L'onorevole Corbucci procede ad un'illustrazione sintetica della delibera di cui è primo firmatario, perché Corbucci è un uomo, ma Manuela qui c'è da fare una correzione, sottoscritta da tutte le forze politiche di maggioranza ed opposizione. Un atto che serve a dare tematiche orientamento politico al progetto di materia della città delle donne, interlocutore istituzionale su varie tematiche, sostenuto anche da Lanci. L'obiettivo è creare una rete nazionale di comuni legami dall'adozione del Manifesto degli Stati Generali delle Donne, costruito per punti, per sostenere le politiche di genere, obbligando le amministrazioni a ripensare un'organizzazione, promuovendo la presenza delle donne anche a livelli apicali. Condivisione primaria della cura per gli uomini, condizioni di lavoro paritarie, rafforzamento anche dello smart working, complice l'investimento della rivoluzione tecnologica, raccorpamento e creazione dei CAV con necessità di investirvi ancora di più, punti di informazione e orientamento per tutte le donne e comunità LGBT+, politiche per la costruzione del bilancio di genere. Conolorevole Cicculli, presidente della commissione capitolina varie opportunità, l'intento è indirizzare politiche di bilancio a favore delle varie opportunità. Ritiene che la proposta di delibera in argomento rappresenta uno dei passi che l'amministrazione comunale sta portando avanti in questo senso, senza alcun colore politico. Segue dibattito, la presidente Vaccari rispetto ai temi e iniziative che non sono strettamente capitoline, domanda quale sia il contributo economico da mettere in bilancio nei territori dei municipi. Pone il focus sull'assenza di fondi stanziati per le varie opportunità a fronte di esigenze provenienti dal territorio che vengono approcciate tramite forme di adesione volontaria. Cita l'iniziativa del flash mob contro la violenza sulle donne. La consigliera Pasetti ritiene il manifesto un atto bellissimo di cui ravvisa la difficoltà a coglierne la parte concreta. conferma la propria disponibilità in seguito ad approfondimento a sottoscrivere l'atto concreto. Si associa all'appello della presidente nel volere lo sguardo ai municipi nell'evidente bisogno di fondi per implementare iniziative con cui spesso non si riesce ad andare oltre le progettazioni. Il consigliere Gocunato ringrazia per l'ampia sintesi del documento si dichiara disponibile a votarlo affinché venga tradotto in attività di sostegno all'interno dei municipi. Purtroppo la buona volontà non sempre è sufficiente. Osserva che due anni fa ad insediamento avvenuto aveva avanzato l'ipotesi di apertura di un capitolo di bilancio per le varie opportunità in quanto per una più ampia partecipazione e risonanza occorrono risorse. L'onorevole Corbucci ha raccolto negli interventi la richiesta che ritiene non solo ricevibile ma anche intelligente da parte di chi nei territori porta avanti risorse. Si impegne ad inoltrarla l'attenzione delle forze politiche per cercare di costruire con l'assessora scuzzese una porzione di bilancio che vada anche nei municipi in forma che sta girando per raccogliere le istanze provenienti dai municipi per una politica del territorio grande come una città. Il consigliere Angelini concorda nel redigere delle osservazioni per una richiesta di fondi più strutturata per i municipi sui vari punti esposti nella delibera perché seppure il promotore sarà il comune i municipi saranno le ruote del carro. Il tema rientra nel discorso sul decentramento amministrativo su cui la nuova commissione si troverà ad operare. La consigliera Marrocchini precisa che oltre all'ordine del giorno sul bilancio di genere è stata fatta una richiesta da parte dell'assessorato pari opportunità del municipio di 20.000 euro che non è stata accordata dall'amministrazione. Alle 15.58 la Presidente dispone una sospensione per redigere le osservazioni da allegare alla delibera. redazione allegato a punto sul monitoraggio delle azioni per le commissioni P.O. dei municipi. La seduta riprende alle ore 16.28. All'appello sono tutti presenti. Ad esito del dibattito la commissione concorta nell'inserire la seguente osservazione. Si ritiene opportuno prevedere uno stanziamento di fondi specifici per le varie opportunità all'interno dei prossimi bilanci municipali per consentire lo svolgimento delle attività previste nella suddetta delibera. La Presidente Vaccari pone a votazione la proposta di deliberazione votanti 5 Vaccari, Angelini, Cucunato, Marrucchini, Pasetti favorevoli 5 Vaccari, Angelini, Cucunato, Marrucchini, Pasetti la commissione esprime per parere favolevole con osservazioni sull'allegato A parte integrante della delibera. Non essendoci posta la Presidente per le varie eventuali rinnova l'invito per domani al flash mob per il parco dell'Eor Castellaggio organizzato dalla Presidente e alle ore 16.35 chiude la seduta. Per quanto mi riguarda non c'è nulla da correggere almeno per ciò che che ho potuto leggere non so se gli altri commissari hanno qualcosa in più da dire. Non mi sembra ci sia nient'altro da dire e passerei al secondo punto. Prego, Angelini. No, no, per me volevo dire solo che per me va bene. Ok. È ovvio che manca oggi la Pasetti non so se comunque io per me quello che ha detto la Pasetti lo ricordo molto bene quindi per me lo darei per approvato. Poi non so Emanuela dimmi tu se dobbiamo attendere la prossima settimana. No, Presidente non è necessario non è necessario Allora io per quanto insomma ricordo va bene insomma non c'erano grandi osservazioni di contrasto quindi secondo me possiamo assolutamente darlo per approvato. quindi passerei al secondo punto all'ordine del giorno ma vedo che l'assessora tranquilli non sia ancora collegata. Prego Angelini che ha chiesto di parlare. Sì, no volevo solo avvertire che l'assessora si sta per collegare che c'è una chiamata non so se possiamo fare un attimo un minuto di sospensione tempo che chiude e arriva insomma. Sì per me va bene e possiamo fare due minuti di sospensione per dare in modo all'assessora di potersi collegare quindi sono le 15.18 alle 15.20 ci ricolleghiamo. Perfetto Grazie Comeriggio di nuovo 15.24 la seduta riprende prego Presidente Grazie Emanuela allora do il benvenuto all'assessora Ludovica Tranquilli perché volevamo un attimino fare il punto assessora insieme a lei per quanto concerne la lavorazione della consulta delle donne se ci sono state iscrizioni ovviamente alcune iscrizioni ci sono state e per sapere come possiamo procedere piano piano anche se molto lentamente ma prima o poi questa commissione deve prendere vita quindi cominciamo a magari a fare un po' di considerazioni sulla commissione sulla commissione stessa quindi io lascerei a lei la parola visto che è lei che ci sta lavorando in prima linea su questo tema Grazie Grazie Allora sto lavorando con la dottoressa Palazzino che sta dando una grande mano e che mi ha rimandato l'elenco aggiornato allora le persone che hanno aderito alla consulta delle donne sono in totale otto e quindi un numero sì limitato però è un inizio sicuramente tra l'altro come ricorderete intanto io ho anche benvenuto al nuovo componente della commissione che è la prima volta che vengo diciamo da quando da quando c'è però sono due componenti nuovi eh ah perché ok scusate scusate dai due dai due componenti nuovi perdoni il consigliere Bartorelli e quindi benvenuti a voi il lavoro che abbiamo fatto insieme sul regolamento che però comunque loro hanno votato in consiglio prevede appunto che ci sia una prima fase di adesione che viene chiusa per l'elezione del nuovo della presidente e che poi successivamente all'elezione della presidente ti riaprano le adesioni quindi l'importante è partire noi io non ho chiesto poi chiaramente se la commissione me lo chiede ovviamente lo farò però non ho chiesto alla dottoressa Palazzino di diciamo prorogare ulteriormente le adesioni perché credo sia giusto arrivare a mettere un punto e a partire poi appunto tutti quanti insieme e quindi abbiamo un punto chiuso sono state fatte le verifiche che sono state anche molto molto precise da parte da parte degli uffici appunto le aderenti sono sono otto in totale ricordo che ci sono poi le associazioni che verranno verranno coinvolte anche quelle più grandi verranno coinvolte successivamente cioè anche quelle che non operano nel nostro territorio però come abbiamo deciso insieme faranno comunque parte della consulta pur senza diritto di voto e quindi e quindi anche quelle diciamo nella prima seduta sarebbero parteciperanno perché noi le avevamo contattate anche con la presidente Vaccari che si ricorderà sicuramente questa cosa detto ciò quindi adesso i passi successivi che adesso ci aspettano sono i seguenti soprattutto più semplici ora perché diciamo con la consulta dei giovani guarda il consigliere abbiamo anche imparato come andare come andare velocemente e superare gli ostacoli e dunque adesso appunto chiuse le adesioni ci sarà la prima assemblea che verrà verranno verranno convocate appunto le aderenti ci sarà la prima convocazione in cui Assessora scusi la domanda se la interrompo le adesioni sono state cessate chiuse all'otto settembre? esattamente sì ok quindi questo diciamo questa data poi verrà riaperta nuovamente quando ci saranno le lezioni sì esattamente e io diciamo in questo caso spero mi auguro e faremo in modo che siano il più celeri possibili perché appunto poi tra l'altro stiamo parlando comunque di otto persone che appunto hanno aderito quindi dovrebbe essere più semplice e delta la procedura anche se comunque i controlli sono stati molto precisi da parte come dicevo prima della dottoressa Palazzini e quindi appunto andremo a convocare le persone che hanno aderito per un primo incontro noi per la consulta dei giovani abbiamo diciamo lavorato prima su un incontro informale in modo tale che si conoscessero e poi un secondo incontro invece formale per il regolamento io in questo caso vi propongo però appunto una proposta per chiaramente dirmi di no di saltare il passaggio informale cioè di andare direttamente alla prima convocazione formale ovviamente mandando il loro prima in cui si discute il regolamento e poi la seconda convocazione invece per l'elezione del presidente cioè della presidente e perché vi propongo questa cosa perché nel caso della consulta dei giovani di questa consulta dove siamo noi adesso è una consulta molto ampia quindi diciamo le tematiche gli obiettivi sono tanti differenti anche la consulta delle donne è ampia nei suoi obiettivi e nelle sue finalità ma è ben definita in ogni caso noi l'abbiamo definita in maniera abbastanza concreta anche con il regolamento quindi diciamo presentarla ha senso presentarla però diciamo in una sede formale quindi quando si andrà a discutere del regolamento secondo me si può fare tranquillamente però appunto questa è una proposta che io vi faccio potete chiaramente dirmi no meglio di no a quel punto così vi dico anche i passaggi quali sono se procediamo su una prima convocazione formale dove si discute il regolamento se non ci sono come sapete modifiche all'iniguida di regolamento che abbiamo già approvato con la delibera che appunto ha istituito la commissione si può procedere direttamente in una seconda convocazione ovviamente all'elezione della presidente qualora ci fossero delle modifiche invece al regolamento e quindi non l'approvazione diretta dell'iniguida ma una una modifica si dovrà tornare in commissione e in consiglio ovviamente questo non possiamo prevederlo perché non sappiamo noi chiaramente glielo manderemo prima però se qualcuno ha delle aggiunte delle proposte di modifiche delle osservazioni da fare non si potrà privare e guidare a nessuno di farle e quindi questa diciamo è la strada che ci attende io mi auguro che nell'arco di due mesi quindi comunque prima della pausa natalizia il tutto sia concluso così da avere anche questa consulta operativa diciamo e pronta a lavorare sarebbe auspicabile questo lo dico onestamente che il tutto si concludesse entro novembre in realtà sarebbe anche un segnale un messaggio importante in vista 25 novembre però appunto è quello purtroppo non possiamo prevedere se ci saranno modifiche al regolamento o meno perché non sappiamo appunto le persone che si sono iscritte che hanno visto sicuramente perché nell'avviso pubblico c'erano anche l'iniguida però non ci hanno fino ad oggi perché non era richiesto mandato alcuna osservazione non sappiamo se ce le hanno o meno e penso e spero di avervi detto tutto quindi la proposta diciamo ve l'ho fatta per essere più operativi però attendo anche una vostra osservazione grazie grazie Assessora io avevo bisogno di farle alcune domande se era possibile l'elenco delle otto persone o associazioni che hanno chiesto di aderire alla consulta sono a questo punto tutte precedenti all'otto settembre quindi la mia domanda è se arrivasse qualche altra iscrizione verrebbe presa in considerazione eh no perché ovviamente sono tutte diciamo antecedenti ovviamente all'otto settembre e bisognerebbe bisognerebbe riaprire l'avviso pubblico e quindi bisogna tenere anche un lasso di tempo che ne so due settimane un mese però due settimane al minimo insomma no no era una mia domanda perché se no no se per caso fossero arrivate mi domando se per caso fossero arrivate altre adesioni subito che non so non l'otto ma il nove il dieci settembre se potevano essere prese in considerazione oppure no tutto qua allora io come anche la presidente in realtà siamo possiamo vedere le mail che arrivano per l'adesione lo siano arrivate adesioni successiva non mi sembra che siano arrivate neanche negli ultimi giorni quindi diciamo chiaramente noi avevamo fatto un avviso che appunto concludeva il tutto all'otto settembre adesso o lo riapriamo è appunto una scelta decidiamolo insieme oppure chiederemo alle persone di riaderire diciamo successivamente alla data delle elezioni che appunto come dicevo prima spero mi auguro che sia entro entro Marcia Dionisi ok no no per me va benissimo anche perché la seconda domanda era proprio quella che mi ero posta prima del suo intervento proprio quella di poter di riuscire a dare vita o quantomeno a dare la prima fare la prima riunione proprio entro il 25 novembre non avevo mai sperato di poter eleggere addirittura presidente e vicepresidenti o comunque quanto richiesto dal dalla dalla consulta stessa quindi se riusciamo a farla entro la la data del 25 novembre più o meno in quelle date lì sarebbe per noi molto un bel segnale proprio come diceva lei no in quanto essendo la consulta delle donne ormai nata circa un anno fa se riuscissimo a farla entro il 25 novembre sarebbe un bel segnale per questo per il nostro territorio che comunque è un territorio che è molto attivo su questo su questo tema sul tema del proprio delle donne in genere perché come sappiamo questa consulta non si occuperà fortuna nostra solo di violenza di genere ma si potrà occupare anche dei temi inerenti e che girano intorno alle donne quindi il lavoro quindi la maternità quindi una serie di una serie di argomenti che potremmo poi andare a sviluppare sotto proprio l'aiuto della consulta anche in questa commissione quindi era per me possiamo andare assolutamente avanti e se ci riusciamo sarebbe un bel segnale ripeto vorrevo non so se c'è qualcun altro dei componenti la commissione voglia di dire qualche altra cosa di fare altre domande all'assessora ecco consigliere Cucunato prego Cucunato non c'ho poca voce scusate ma non c'ho tanta voce l'unica cosa che volevo dire non sarebbe stato meglio tenere open praticamente la possibilità di aderire alla consulta fino a quando praticamente era si convocava e dopodiché praticamente procedere magari con la composizione degli ordini e magari per alimentare sempre di più la partecipazione cioè è chiaro che dovevamo mettere una scadenza però considerato che non mi sembra che ci sia stato un numero di adesioni ampio secondo me bisogna tenerla open nella possibilità di iscriversi così come poi avviene in tante altre consulte poi questa è una mia opinione però magari ci confrontiamo grazie grazie ma io non speravo a dei grandissimi numeri quando ho intrapreso abbiamo intrapreso la appunto la consulta delle donne proprio perché questo territorio ha poche associazioni e comunque dovevamo dare anche un segno di apertura io credo che l'idea dell'assessora tranquilli di mettere il blocco all'8 settembre in modo che adesso ripartiamo con tutte quelle che sono le procedure per far sì che questa commissione possa prendere questa consulta possa iniziare a lavorare e poi riaprire l'adesione perché altrimenti non riusciamo mai ad avere un numero per poter aprirla poi io lascerei a questo punto visto che ha alzato la mano di nuovo l'assessora lascerei la parola all'assessora tranquilli che magari lo spiega anche meglio di me prego assessora Sì scusatemi io vi devo dire la verità non potrò restare ancora tanto perché devo un attimo seguire qui anche con la dottoressa De Leo quindi volevo un attimo rispondere Presidente a quello che gli chiedeva il consigliere Cuconato per spiegare anche questa cosa in generale ovviamente sì avrebbe avuto senso poi maggior ragione diciamo quello che diceva anche la Presidente Falcari è chiaro non ci aspettavamo grandi numeri ma è quello che diceva anche lei quindi già a partire da 8 è un ottimo risultato da un certo punto di vista dall'altro però c'è un tema di verifiche che dovevano essere fatte diciamo la lentezza dell'attesa di questo mese non è stata dovuta da un non lavoro anzi è stato fatto un lavoro anche importante perché vista anche la delicatezza di questa consulta nello specifico gli uffici hanno richiesto una verifica al capellario giudiziario quindi diciamo c'è stata anche una delicatezza da un certo punto di vista di controllo e un'attenzione particolare perché ovviamente in alcuni casi si va a parlare anche di violenza quindi era giusto che ci fosse un controllo ulteriore quindi per controlli del genere c'è comunque un'attesa un po' più ampia per cui chiuderla a pochi giorni o al giorno stesso magari delle elezioni per questo motivo non aveva senso ora siamo appunto ad un mese successivo alla chiusura dell'avviso pubblico abbiamo appunto firmato tutte le verifiche e siamo pronti a convocare insomma da dieci giorni in realtà è finito il tutto però tanto che dovevo venire la scorsa settimana poi purtroppo per altre ragioni non siamo riusciti a fare il punto però insomma siamo pronti a convocare l'assemblea io vi chiedevo come vogliamo procedere Sì soprattutto i controlli relativamente alle associazioni è ovvio che come ben sappiamo non sono tantissime che si occupano di questi temi nel nostro territorio perché molte sono concentrate in altri territori come ad esempio il primo municipio eccetera io se anche gli altri commissari sono d'accordo proporrei all'assessora Tranquilli di procedere con la convocazione a questo punto decidere una data e cominciare ad essere un pochino più operativi fattivi non so come dire Cugunato lei ha di nuovo alzato la mano era quella di prima? No no era quella di prima grazie Ah ok quindi assessora secondo me dobbiamo cominciare ad andare avanti non so poi se c'è qualcun altro che ha voglia di dire qualche altra cosa io capisco che Bartolelli e Sordini sono entrati in corsa quindi ma anche se poi in realtà la consulta delle donne essendo andata anche in consiglio sanno di che cosa stiamo parlando non so se Giulia ha voglia di dire qualche altra cosa altrimenti in realtà il punto è bello che chiuso dando mandato all'assessora di procedere per quanto riguarda la convocazione quindi quindi andiamo a convocazione diciamo formale sì secondo me sì visto che non c'è nient'altro da aggiungere io direi magari di trovare magari insieme una data non lo so poi questo ci dirà a lei come dobbiamo procedere anche perché giustamente come ci diceva sia lei che Angelini ormai siete esperti di consulta visto la consulta dei giovani secondo me potremmo cominciare la convocazione per poter arrivare almeno al 25 novembre con qualcosa di più concreto perfetto io chiedo al presidente Bedoni all'ufficio consiglio quando c'è la disponibilità dell'aula perché è giusto farlo il consiglio e insomma vi mando attraverso la presidente insomma le varie possibilità di giornata magari se riuscissimo a farlo mentre di una commissione forse è anche un valore ulteriore immagino che lo riusciamo a fare un giovedì pomeriggio no è sempre la commissione è il martedì pomeriggio scusate vabbè perché poi il problema è del giovedì pomeriggio che c'è l'altra commissione speciale del PNRR che si convoca quindi magari le verbalizzanti hanno delle problematiche cioè non toglie che potremmo fare anche un'inversione di giornate di pomeriggio va benissimo io scusate mi sono confusa e farlo magari proprio dentro anche questo fa capito un secondo se si può fare la convocazione della consulta in concomitanza con la commissione oppure si lo studiamo adesso anche con gli uffici insomma faccio questa proposta vi faccio sapere va bene allora rimaniamo d'accordo che attendiamo sue comunicazioni ok va bene io scusate vi devo lasciare ma la dottorista di lei mi sta facendo gli occhi da i segnali di fuoco per va bene va bene va bene grazie a lei assessora arrivederci buon lavoro in consulta grazie allora mi sembra che insomma stiamo non dico a buon punto ma quasi certo le associazioni sono poche io se volete vi vi dico quali sono le associazioni che hanno aderito alla consulta sono l'associazione APS ponte d'incontro e la doponomastica femminile per ora e poi ci sono delle cittadine iscritte io non ho altro da dire se non a chiusura di questo punto all'ordine del giorno che a te come avrò le indicazioni da parte dell'assessora tranquilli sarà mia cura informarvi oltre che fare come ci consigliava la deve fare ovviamente la verifica di fare una commissione all'interno dell'apertura della prima riunione della consulta sono le 15 e 44 volevo sapere da Manuela se c'è posta no non è pervenuta posta e allora a questo punto io chiedo ai componenti della commissione se c'è qualche cosa che vogliono dire nelle varie eventuali consigliere cucunato lei aveva necessità di parlare di qualcosa sulle varie eventuali no ma ho visto che ci abbiamo fatto abbastanza veloce quindi magari lo riservo per la prossima volta non c'è problema grazie presidente ok a questo punto io credo che possiamo chiudere qui la commissione oggi è stata una commissione molto veloce e ci rivediamo martedì prossimo Presidente mi dà l'orario alle 15.45 arrivederci a tutti grazie grazie arrivederci